Ciao, sono Cristina di Leroy Merlin Rozzano. Oggi voglio raccontarti tutto ciò che devi sapere per scegliere la lampadina giusta per le tue esigenze. Facciamo prima un passo indietro. Le vecchie lampadine di incandescenza sono state ritirate dal commercio tra il 2009 e il 2013 in tutta la comunità europea. Sono state sostituite da lampadine con tecnologie più avanzate che permettono una migliore resa luminosa e una maggiore efficienza energetica, riducendo così i consumi e l'impatto ambientale. Puoi trovare infatti diverse tipologie in commercio. Lampade LED, lampade alogene, lampade decorative e vintage, lampadine smart, lampadine fluorescenti, tubi e circoline, lampadine per elettrodomestici. Le lampadine LED fanno tanta luce e permettono un risparmio energetico di circa il 90% rispetto alle vecchie lampadine di incandescenza. Durano molto lungo, da 10.000 a 20.000 ore di accensione, quindi circa 10-15 anni di un utilizzo medio. Oltre al risparmio in una bolletta per il loro consumo, quindi riducono i costi perché vanno sostituite con meno frequenza. Raggiungono istantaneamente la massima luminosità all'accensione e supportano molti cicli di accensione e spegnimento. Le lampadine LED di nuova generazione sono in vetro e hanno un filamento interno che le rende molto simili alle lampadine di incandescenza dal punto di vista estetico. Le lampadine LED sono in continua evoluzione perché diventano sempre più luminose e potenti, pur mantenendo i consumi molto bassi. Inoltre, il loro costo ad oggi è alla portata di tutti. Infine, le nostre lampadine LED Lexman sono garantite 5 anni. Se non funzionano più per un salto in negozio, te le sostituiamo noi. Le lampadine alogene hanno avuto un'evoluzione negli ultimi anni e consumano circa il 20-30% in meno rispetto alle vecchie lampadine di qualche anno fa, mantenendo pur sempre la resa luminosa e il colore della luce particolarmente caldo e brillante. Durano circa 2000 ore, circa 1-2 anni di utilizzo medio. Accendali istantaneamente e sono compatibili con dispositivi come varia luce o dimmer, rilevatori di presenza e rilevatori crepuscolari. Le lampadine decorative LED sono molto usate anche solo con il pendel porta lampada e arredano tutti gli ambienti di casa e di attività commerciali come bar e ristoranti. Le lampadine smart sono lampadine LED innovative che permettono di avere delle funzioni in più come il controllo a distanza con lo smartphone e la riproduzione di musica. Le lampadine fluorescenti e compatte, comunemente dette a basso consumo e anche a risparmio energetico, sono state la prima alternativa alle lampadine di incandescenza, ma oggi sono in via di sostituzione da parte delle lampadine LED. Puoi trovarle ancora con attacchi specifici che solitamente trovano in impiego i lampade da ufficio. Hanno una durata di 6.000-12.000 ore e consumano circa l'80% in meno di una lampadina di incandescenza. Tra loro i difetti? Il fatto che occorrono alcuni secondi per raggiungere la massima luminosità e soffrono delle accensioni continue. E per questo motivo sono consigliate negli ambienti dove possono rimanere accesi a lungo, come ad esempio uffici, mense e laboratori. I tubi e le circoline fluorescenti, anche dette neon, sono simili alle lampadine fluorescenti compatte per tipo di luminosità e di consumi. Rispetto a queste hanno forme e attacchi differenti, quindi sono specifiche per acchiature come le plafoniere stagne e alcuni tipi di lampade da ufficio o da negozio. Anche esse durano molto a lungo, ma è bene sapere che raggiungono lentamente la piena luminosità. Infine, le lampadine per elettrodomestici hanno piccole dimensioni e attacchi speciali, specifici per frigoriferi, cappe, forni e macchine da cucire. Possono essere alogene o a incandescenza, poiché il loro vattaggio è molto basso e quindi permette ancora la loro commercializzazione. Esistono molti tipi di attacchi e certi sono specifici di alcuni tipi di apparecchi. Verifica la tua lampada o lampadina che devi sostituire e individua il tipo di attacco corrispondente. Ci sono diversi tipi di attacchi. E27 attacco grande e 14 attacco piccolo, sono i più diffusi. GU10 a baionetta, impiegato nei faretti e nei faretti incasso senza trasformatore 220-240V. GU5.3, usato con faretti e faretti a incasso con trasformatore 12V. R7S, frequenti in lampade da terra e proiettori da esterno. Puoi trovarli in due lunghezze, 78mm o 118mm. C9, molto usato in alcuni tipi di lampadari, plafoniere applic senza trasformatore 220-240V. C4, questo attacco è frequente in alcuni tipi di lampadari, plafoniere applic con trasformatore 12V. Ti consigliamo di maneggiare sempre queste lampadine con un batuffolo di cotone. Altri tipi di attacchi sono propri di apparecchi specifici. Verifica il tuo codice indicato sulla lampadina da sostituire. I tubi alle circoline fluorescenti dispongono di attacchi T10, T2, T4, T5, T8 e altri. Le lampadine fluorescenti o LED speciali hanno attacchi particolari, per citarne solo alcuni G24D3, G24Q, G24Q1. Anche le lampadine per elettrodomestici possono avere attacchi particolari come il B15, l'S14S, il G12 e altri. Il colore della luce influisce sull'atmosfera di un ambiente e sulle tue percezioni, contribuendo a migliorare il benessere fisico o ad aumentare la concentrazione. La luce bianca viene distinta per la sua tonalità, ovvero il grado di calore misurato in gradi Kelvin. Calda, fredda, naturale. Le lampadine a incandescenza e alogene possono essere solo calde. Le lampadine LED fluorescenti possono avere una luce bianca, calda, fredda o naturale o colorata. La luce calda è ideale per creare un ambiente confortevole e accogliente e quindi è consigliata in camera da letto, soggiorno, sala da pranzo e altri luoghi conviviali. Ha un colore giallo e la sua temperatura di colore va da 2.700 a 3.000 gradi Kelvin. Le luci a incandescenza e alogene sono sempre solo calde. Luce fredda permette di cogliere meglio i particolari e di visualizzare più nitidamente gli oggetti. Per questo motivo è consigliata negli ambienti che necessitano di molta luce, come i garage, i laboratori e gli uffici. Ha un colore bianco tendente all'azzurro. La sua temperatura di colore va da 5.000 a 6.500 gradi Kelvin. Valorizza molto gli interni e le pareti dei colori azzurro, verde e viola, ma anche giardini e spazi esterni. Luce naturale favorisce la concentrazione e non altera i colori, quindi è consigliata in bagno e in cucina. Di colore bianco o neutro, la sua temperatura di colore è di circa 4.000 gradi Kelvin. CCT, grazie a questa tecnologia, può avere in un'unica lampadina tutte le tonalità di luce, calda, fredda o naturale, e regolarle quando desideri attraverso il suo telecomando. Solo le lampadine LED possono essere CCT. RGB multicolore, puoi scegliere il colore che desideri e comandare la lampadina attraverso il suo telecomando. Solo le lampadine LED possono essere RGB e spesso questa tecnologia è abbinata alla CCT. Un consiglio, la luce colorata è ideale solo per un'illuminazione d'atmosfera, non è adatta per la lettura poiché affaticherebbe la vista e nemmeno per la zona da pranzo e il make-up poiché altera i colori. La scelta della forma della lampadina è soprattutto estetica, ma anche funzionale, perché è correlata al tipo di apparecchio e allo spazio disponibile all'interno del diffusore. Le forme di lampadine più comuni sono la lampadina a colpo di vento, torciglione e oliva, sono lampadine di piccole dimensioni che danno un tocco di stile in più. Sono consigliate per lampadari e lampade con braccio in ferro, dove la lampadina è visibile. Hanno sempre un attacco piccolo e 14 per l'appunto. La lampadina a sfera e goccia, le lampadine dalla forma più conosciuta stanno bene in applique, plafoniere, lampade d'appoggio e in tutti gli apparecchi illuminanti che possono contenere lampadine di questo ingombro. Possono avere sia attacco grande e 27, sia attacco piccolo e 14. Le lampadine a globo sono lampadine grandi e molto decorative, ideali in lampadari e sospensioni, soprattutto quelli da cucina, e in tutte le lampade che possono contenere lampadine di questo ingombro. Sono sempre con attacco grande e 27. Lampadina per faretto R50, R63 e R80 hanno delle forme disegnate per entrare bene nel bicchierino o nel diffusore del faretto, a seconda dell'attacco e del tipo di apparecchio per cui sono indicate. Possono avere una forma più a funghetto o più simile ai riflettori. Lampadina par 30 e par 38 hanno una forma simile a quella dei faretti, ma sono più grandi e progettate per faretti da incasso a suolo in esterno. Per anni abbiamo acquistato le lampadine tenendo a mente un solo parametro di misurazione della potenza della luce, i Watt. Oggi le lampadine LED e le lampade di nuova generazione con LED integrato consumano molto meno rispetto alle vecchie lampadine ad incandescenza e halogene, pur producendo la stessa intensità luminosa. Per valutarne la potenza e confrontare lampade e lampadine diverse tra loro, si è reso necessario distinguere tra luminosità e la quantità di luce che le lampadine in grado di emettere e si misura il lumen. Maggiore questo valore, maggiore la potenza luminosa della lampadina. Consumo è la quantità di energia elettrica che la lampadina assorbe per poter funzionare e si misura in Watt. Minore questo valore, maggiore è risparmio in bolletta. La luminosità in lumen è l'unico dato che permette di comparare lampadine diverse tra loro, perché a secondo della loro tecnologia, la stessa intensità luminosa, quindi gli stessi lumen, corrisponde in un consumo diverso. Ad esempio, una vecchia lampadina da 100 Watt corrisponde a 1521 lumen. Per sostituire questa lampadina possiamo scegliere tra lampadina LED consuma 12 Watt, fluorescente 25 Watt e un halogeno consumo 80 Watt, per appunto dare 1521 lumen. L'angolo di diffusione misura il raggio di emissione della luce. Scegli in base al tipo di luce che desideri e del tipo di apparecchio dove inserirai la lampadina. Lampadina è con l'angolo di diffusione fino a 36 gradi, ideale per una luce direzionale. Sono indicati per faretti e faretti da incasso. Lampadine con angolo di diffusione tra 150 gradi e 300 gradi, per una luce diffusa riducendo le zone d'ombra. Sono adatti in tutte le lampade d'appoggio e in lampadari con diffusore. Lampadine con angolo di diffusione di 360 gradi permettono di illuminare tutti gli spazi della stanza in modo omogeneo e senza zone d'ombra. Sono indicate per applique e plafoniere. L'etichetta energetica serve a informare sul consumo di elettricità delle apparecchiature domestiche classificando la performance energetica con una lettera. Quando la tua lampadina non funzionerà più ricordati di smaltirla nel modo giusto per permettere il riciclo dei materiali e lo smaltimento di componenti nocivi all'ambiente. Le lampadine incandescenza e halogene possono essere gettate nella campana del vetro. Lampadine a risparmio energetico, tubi fluorescenti, circoline e lampadine led, devono essere invece lasciate negli appositi contenitori che trovi nei nostri negozi. Puoi portarle anche nelle piattaforme ecologiche e nei negozi che vendono materiale e apparecchi elettrici. Se una lampadina fluorescente si rompe, fai attenzione a non respirare il gas che fuoriesce dai vetri e fai areare il locale. Spero di averti aiutato nella scelta della lampadina giusta. Dai un'occhiata sul nostro sito per vedere tutte le lampadine disponibili o vi rici a trovare il negozio. Se poi ti è piaciuto questo video puoi iscriverti al canale, mettere in like e fare nei commenti le tue domande.